non abbiamo niente abbiamo una sorpresa niente stranissimo si lavora poco su questo 5 ritira ritira 8 incredibile si non c'è niente 1 2 3 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15